Confiume Là c'è la posizione dell'autore di restare tutte laudere tra l'autore ma magari per un momento all'autore si riducono peggio le nuove in cui c'è manca 100 km Cosa c'è? Giovanna? Cosa? Cosa si muove? Da sotto Io di dove mi interessa? Tu mi fai anche con me? Perfetto Allora c'è la tua percentuale Che è 10% Non è giù mia Potessimo fare vinte E vinte su A salari anzi sono 40 Perfetto Il centro storico Si può offrire con la periferia Il peso Non è come capo Badaroc E bucceria Dopo Sua Badaroc Tutti E pagano tutti E pagano tutti Non solamente No Perché dopo che ho scavato Si dico Questa I due giorni Non ci sono ancora queste strutture C'è la struttura Careo Con l'arricciare 100% Perché Perché Si fosse E' innanzitutto Sisse Ma Questa Nella Se Nella Se Tanta Tanta Tutto Ecco Confusione Se C'erano Certo In C'erano Ma No